Il problema che io tengo molto a sottolineare è che lo sviluppo sostenibile non deve necessariamente essere in contraposizione con lo sviluppo in quanto tale. Lo sviluppo sostenibile apre moltissime possibilità, poi starà a noi, a chi ci segue, quindi ai giovani, coglierle. Pensiamo a tutto il discorso che si fa sulla transizione ecologica, pensiamo alla digitalizzazione, pensiamo alle nuove frontiere della tecnologia. Noi siamo tradizionalmente un sistema paese come Italia innovativo da sempre, non siamo solo un grande polo di manifattura, siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, ma siamo anche un paese fatto di università di eccellenza, un paese fatto di scienziati, un paese fatto di ricercatori. Quindi la sostenibilità può diventare veramente la nuova spinta per differenziarci da quelli che sono invece i paesi puri produttori e creare nuove opportunità di cui tutta la società potrà beneficiare. In questo senso CEO4Life cosa fa? CEO4Life porta i CEO di tante aziende di settori diversi ad incontrarsi, a discutere i temi della sostenibilità, ma anche tanti altri temi che poi trovano il loro culmine nella collaborazione, nella generazione di nuove idee e nella sfida anche tra questi CEO a chi riesce a interpretare meglio il proprio ruolo, ripagando sostanzialmente alla società anche tutto ciò che la società ci fornisce in termini di capitale umano formato e di possibilità per poter crescere.